abbiamo preso un persico sole adesso provvederemo anche a rilasciarlo con la pinza ecco un altro persico sole questa volta ho catturato io qualcosa adesso procederemo a slamarlo e a rilasciarlo sempre con il lombrico Andy per favore favorisci una pinza esemplare molto bello più grande di quello di prima e soprattutto è duro qualcuno tenga il filo grazie cameraman niente non posso già parlo così perché mi spuncio no stas puncha continuo il video spegno eh abbiamo appena recuperato un black bus molto molto grosso cosa rinito ti dio no 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 no